Presidente Alfa, oggi convegno a Gallarate, si parla di siccità e le chiedo che estate sarà in provincia di Varese. Sono già voci allarmanti da qualche mese che quest'anno non potremo riempire le piscine, è davvero così? Sì, purtroppo si preannuncia un'estate altrettanto difficile come quella che è stata l'anno scorso. Però noi da settembre dell'anno scorso abbiamo messo in campo delle azioni per poter mitigare quantomeno quella che si preannuncia però un'altra emergenza idrica a causa proprio della siccità. Abbiamo lavorato, l'unica cosa che possiamo dire è che noi possiamo gestire l'acqua che c'è, purtroppo se la natura non ci darà l'acqua non ci potrà fare niente nessuno. La qualità dell'acqua in provincia di Varese è sempre stata buona, continua ad essere buona, gli investimenti vanno in questa direzione? Assolutamente sì e nel convegno di oggi proprio affrontiamo questo tema, cioè la qualità dell'acqua. In provincia di Varese siamo opportunati perché è un'acqua di ottima qualità e inoltre affrontiamo il tema di acqua e salute, ossia quello che l'acqua può fare per il benessere del nostro corpo, della nostra salute e affrontiamo anche un tema molto delicato che è l'acqua e il benessere per i bambini. Insomma un tema molto interessante. Sono tantissimi cantieri aperti in provincia di Varese da parte vostra, piccoli e grandi interventi, quali sono i più importanti in questo momento? Ma io credo che più che citare il singolo intervento bisogna dare un numero. Quest'anno faremo 38 milioni di euro di investimento sul territorio, una cifra enorme che non è mai stata investita e tenete presente che diventerà lo standard anche per gli anni a venire. Alfa ha un piano industriale di oltre 500 milioni di euro, stiamo lavorando in maniera molto attenta e puntuale perché il servizio idrico in provincia di Varese deve recuperare un po' di tempo che forse è stato perso negli anni precedenti.